Abbiamo voluto essere qui per fare i complimenti al Sindaco, a tutti i consiglieri eletti, anche per ringraziarli, per essersi messi a disposizione, perché oggi è veramente una bella giornata. Oggi è una bella giornata per l'Onalazes, ma oggi ha detto al Sindaco è una bella giornata per il Trentino, perché da troppo tempo continuavano ad esserci commissariamenti che si susseguivano. Voglio ringraziare anche i commissari, in primis l'ultimo commissario, il dottor Francini, e prima il commissario Secchi. Oggi è una bella giornata per tutta la comunità trentina. Le inchieste fanno il loro corso, noi siamo convinti della serietà di questo territorio, della legalità di questo territorio, di chi ci sta lavorando, e sicuramente un'amministrazione comunale che in collaborazione con la provincia vuole lavorare per i beni del territorio, è un segnale importante. La legge riforma del settore va nella direzione di dare ulteriore importanza al settore, questo è un settore importante, non solo per questa valle, per l'Onalazese, per le valli circostanti, ma per tutto il Trentino, perché quando si parla di porfido fuori dal Trentino si sa bene anche l'importanza, io dico anche culturale, non solo economica, del settore del porfido. Quindi su questo occorre continuare a lavorare.